Do la parola al compagno Gaetano del Partito Comunista Italiano Compagni vi ruberò pochi secondi perché io a 14 anni già la prima manifestazione che ho fatto ho fatto alla Palestina e mio padre mi accompagnava a fare questa manifestazione San Giovanni era piena perché c'era un partito comunista forte, grande che dava la solidarietà a tutti quelli che stavano più deboli oggi vedo che la comunità palestinese ha dei giovani veramente forti lo slogan che loro hanno sempre lanciato nel mondo è stato quello che finché ci sarà incinta una palestinese la Palestina sarà sempre in lotta per la loro libertà e questo io non lo dimenticherò mai e staremo sempre al vostro fianco anche adesso che siamo un pochettino debolucci in confronto a qualche anno fa ma staremo sempre al vostro fianco non vi lasceremo mai da soli grazie Palestina libera grazie